Dopo la Leopolda scopri Firenze. Sabato, nel secondo giorno della Kermess Renziana, in programma Firenze da venerdì a domenica, Palazzo Strozzi, Palazzo Vecchio e Museo dell'Opera del Duomo resteranno aperti oltre il normale orario. E i primi 300 che si registreranno per la Leopolda viene spiegato sul sito leopoldastazione.it potranno entrare gratis in uno dei siti museali aperti straordinariamente per noi la sera di sabato 12 dicembre. Il programma di sabato della Leopolda 2015 prevede l'apertura della Kermess alle 9.30 e la chiusura alle 20. Obiettivo dell'edizione 2015 ha spiegato nei giorni scorsi Davide Baccarella della società che cura la creatività della manifestazione e esprimere la maturazione tra il messaggio delle prime Leopolde passato da proposta attività di governo. Vogliamo mostrare cosa dell'inizio dell'esperienza Leopolda è stato realmente recepito e messo in pratica da una nuova generazione dirigente che oggi, dopo la gavetta, sta guidando il paese.